Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A Tech dei buona fine di domenica e buon inizio per la prossima settimana Tante domande, in realtà non tante, sono le solite 5 o più di 5 perché ormai vado un po' oltre le 5 Non perdiamo tempo e iniziamo subito Bene ragazzi partiamo subito da 1.0.1.1.0.0.1.0.1 Q&A consiglieresti un Lumia rispetto ad un cellulare Android o iOS? Perché no? Se ti va bene, se accetti insomma alcuni dei drawbacks, dei punti negativi di Windows Phone, perché no? Di Windows 10, perché no? Come poche app sullo store, questo è oggettivo e mancano anche app importanti Però ottieni qualcosa di molto ben interfacciato tra i vari dispositivi, smartphone, tablet, PC E ottieni anche il discorso app universali e continuum su alcuni dispositivi Quindi perché no? A me Windows Phone piace veramente tanto E quindi sì, lo consiglierei anche a chi vuole spendere un pochino meno Federico Negri, se dovessi consigliare uno smartphone Android di fascia media Consiglieresti vecchi ma non troppo top di gamma Samsung come S5 o S6 O smartphone più nuovi di aziende minori? Allora, se tu mi parli di fascia, quelli che hai nominato sono dispositivi di fascia alta in ogni caso Erano dispositivi di fascia alta, quindi sono ex top di gamma Se tu mi parli di fascia media io penso a uno smartphone che oggi sta sui 200-300 euro Quindi capiamoci intanto, fascia media tu probabilmente intendi fascia di prezzo media Io direi a questo punto ci sono ottime alternative a questi due smartphone che hai nominato Uscite quest'anno a prezzi molto economici Ad esempio penso ai Meizu, all'M3 Note Penso anche agli Xiaomi nelle versioni di sicuro non top come il Mi 5 Ma più economici e comunque però che vanno bene Quindi ti consiglierei questo genere di prodotto Un esempio lampante di tutto ciò che forse unisce l'hardware anche con l'esperienza di un'azienda Che ormai ha dimostrato di saper fare prodotti come si deve OnePlus X Sergio Elcotro Q&A ciao sotto i 200 dollari Quale cellulare mi consigli per foto, social e giochi? Anche in questo caso ti direi M3 Note di Meizu Che a me piace davvero tanto e che probabilmente sto già testando in questi giorni Mentre voi starete vedendo questo video Filan T04 Q&A per un ragazzo di 11 anni Quale smartphone possibilmente Apple consigli? Beh se proprio vuoi restare su Apple ti consiglierei un iPhone 5C Che a me è un telefono che è piaciuto E che ho consigliato a tantissime persone Soprattutto a chi all'inizio Che è appena entrato nel mondo Apple Perché ora lo trovi anche a prezzi molto molto ridotti Chiaramente non lo vende più Apple ma qualcun altro sì online E lo trovi forse appunto sotto i 200 euro ormai O sui 200 euro Al BB Q&A proverai mai un smartwatch Android Wear? Beh perché no Appena sarà possibile Quando mi arriveranno li proverò e li accensirò molto volentieri Anche così da avere insomma uno smartwatch anche Uno smartwatch serio non l'elephone W2 Anche per quando insomma utilizzo dispositivi Android Alex Fantini Di cosa ne pensi di Google+, secondo te ha senso? Diventerà un grande social tipo Facebook, Twitter, Instagram eccetera? Beh Google secondo me ci ha un po' mollato su Google+, perché l'ha provato a spingere in tutti i modi Ha più riprese e non è mai riuscito a sfondare Ovviamente ha la sua base di utenza che è quella che Google recupera da Android Però oltre Android non c'è vita su Google+, e in generale su Google+, non c'è granché vita Quindi secondo me non diventerà un grande social, resterà un social limitato agli utenti Android, agli utenti Google E non potrà mai competere con Facebook, Twitter e Instagram E siamo arrivati all'ultima domanda di questo Q&A Tech Day E di Antonio D'Angelo Q&A ciao Andrea Gli smartphone modulari come LG G5 possono davvero rappresentare il futuro? Cioè è davvero così necessario avere uno smartphone dove ci puoi cambiare di tutto? Allora sicuramente LG ha osato E da certi punti di vista ha fatto bene Da altri ha fatto un po' meno bene Però secondo me la strada non è malaccio Ovviamente aziende come Apple non sposeranno mai una tecnologia del genere La tecnologia modulare Però perché no? Cioè LG G5 io non l'ho provato con i moduli perché per ora ancora non si vendono Però l'idea di poter cambiare la batteria di sicuro ha letto un po' Ma è anche vero che lo facevano in plastica e si cambiava lo stesso Non era un problema Il discorso della fotocamera e dell'audio migliorato Beh quello mi intriga parecchio e mi piacerebbe provare G5 con i moduli Bene ragazzi quindi questo nuovo Q&A Tech Day finisce qui Vi ringrazio per le domande che mi avete fatto Fatemene tante altre sotto questo video Per il prossimo video che andrà online di nuovo domenica Sempre nel pomeriggio Noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti da Andrea Cervone per TechQ Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti